La domanda potremmo partire un po' in generale, insomma, potremmo chiedere all'intervistato che cosa intende lui con commercio eco solidale? Sì, diciamo due domande di presentazione. Beh, ma intanto noi cos'è che intendiamo con commercio eco? Allora, io mi sono trascritto un po' tipo uno schema, nel senso un po' riassuntivo di quello che si è messo di suo sito. Sì, quindi sarebbe lo scambio di prodotti in cambio di denaro. Ma questi prodotti sono particolarmente tutelati rispetto agli altri, nel senso che vengono maggiormente curati e non subiscono trattamenti particolari. Eh, infatti potremmo anche chiedere la tutela dell'ambiente, come l'ambiente influisce, come viene collegato. Esatto, collegandone. Ok. E quindi anche nei paesi in cui ci sono le materie prime, come viene tutelato l'ambiente anche lì. Esatto, se viene comunque protetto o se viene abusato. Giusto, quindi... E anche quali sono i paesi che sono coinvolti nel commercio eco? Perché non penso che tutti i paesi... Beh, allora, i paesi principalmente in via di sviluppo, poveri ma soprattutto quelli in via di sviluppo, sono maggiormente coinvolti. Sì, ma sia quelli che sono coinvolti in quanto sono paesi in via di sviluppo e quindi sono quelli che vengono aiutati, sia quelli che aiutano, cioè, quei paesi in cui ci sono più collegative, più... Sabilità, associazioni. Sì, esatto, ci sono associazioni che si occupano appunto di questo commercio. E comunque dobbiamo ricordarci che anche i paesi europei, oppure anche i paesi già ricchi di per sé, sono coinvolti nel commercio eco. Perché è un obiettivo, secondo me, che deve arrivare in tutto il mondo, anche se è difficile. E che durerà anche nel futuro, secondo voi? Possiamo chiederglielo? Eh, sì, esatto. Perché ci sono vari fattori che dipendono, cioè, da cui dipendono appunto il futuro che avrà il commercio eco. Ad esempio, il prezzo dei prodotti... La competitività. Esatto. Questa è una cosa che vi dovremmo chiedere, soprattutto il prezzo dei prodotti che hanno. Ecco, beh. Sì, esatto. Oppure, ad esempio, magari se un giorno si arriverà che tutti i paesi avranno circa la stessa ricchezza, può anche essere che questo commercio eco non ci sia più, perché alla fine non avrà più un vero e proprio utilizzo. Perché ad esempio adesso, legato a quello che diceva lei dell'associazione e delle fondazioni, queste qua comunque aiutano insomma le comunità che sono in difficoltà, ad esempio con alcuni progetti legati alla scolarizzazione o alla sanità o comunque alla protezione dell'ambiente. Quindi potremmo anche chiedere come fanno a conoscere, a far conoscere la loro attività. Eh, in particolare a quello che intervistiamo, possiamo chiedere lui come è entrato in contatto con il commercio eco? Sì, questa è una delle domande che facciamo inizialmente. Quindi inizialmente programmi e domande di presentazione, quindi... Chiedere come è strutturata l'attività e come è montata l'attività. Per esempio lui il commercio eco e... Quali sono le iniziative che promuovono per farlo conoscere? Sì, e come sono venuti a contatto. Esatto, ci siano degli scopi precisi. Ok, le prime domande così. Le altre invece principalmente... Con l'aria un po' più. ...futuro. Esatto, esatto. Dopo pure... ...la tutela dell'ambiente. ...la tutela dell'ambiente. O anche ad esempio di prezzo ai clienti che hanno... Ai clienti, giusto. Quindi se hanno una tipologia particolare di clienti... E quanto spesso questi clienti vanno... E con quale motivazione? Esatto. Quindi penso sia principalmente perché vogliono essere sicuri di comprare cose di qualità. O anche per... O se è proprio per il fine per cui c'è questa attività, cioè anche aiutare i paesi a farli conoscere. Ok. E dopo anche i prodotti se... Come si può dire? Se sono delle tipologie di prodotti che... Sì, che sono maggiormente maggiormente e altri che invece... Magari appunto non... Magari hanno una tipologia di prodotti che vendute da una parte o vendute da un'altra non hanno una grande differenza di trattamento. Esatto. E comunque magari le trovi migliori anche a minor prezzo nei supermercati normali. Quindi magari possono anche non venderle proprio... Esatto. Ok. Io direi che abbiamo abbastanza domande. Ci manca solo l'intervistato. Allora, il rucchio viene da lo chiamare, sì.